Corrado Cortese voleva diventare ambasciatore ed è diventato ambasciatore delle piccole e medie imprese e delle grandi aziende vicentine e venete nel mondo. Master Alquoa oggi guida l'ufficio estero di un'azienda vicentina. Il suo motto? Nessun luogo è lontano. Marzo 1521 le Filippine. Pigafetta rischia di annegare. Grande familiarità depigliarono con noi questi popoli. Ne dissero molte cose come le chiamavano e gli nomi di alcune isole che si vedevano de qui. La sua si chiamava Zuluang la quale non è troppo grande. Pigliassimo gran piacere con questi perché erano assai piacevoli e conversabili. Il capitano generale per fargli più onore li menò alla sua nave e li mostrò tutta la sua mercadanzia. Garofoli, cannella, pevere, noce, moscada, macia, oro e tutte le cose che erano nella nave. Fece de scaricare alcune bombarde. Ebbero gran paura e volsero saltar fuori della nave. Ne fecero segni quelli dove noi andavamo nascessavano le cose suddette. Quando si volsero partire pigliarono licenza con molta grazia e gentilezza dicendo che tornarebbero secondo la sua promessa. La isola dove eramo si chiama Umunu ma noi per trovarli due fontane d'acqua chiarissima la chiamassimo l'acquata degli buoni segnali perché fu il primo segno d'oro che trovassimo in questa parte. Qui si trova gran quantità dei coralli bianchi e arbori grandi che fanno frutti poco minori della mandorla e sono come i lipignoli e anche molte palme, alcune buone e alcune altre cattive. In questo loco sono molte isole per il che lo chiamassimo l'arcipelago de San Lazaro, descobrendolo nella sua Domenica, il quale sta in 10 gradi di latitudine al polo artico e 161 di longitudine della linea della ripartizione. Venerdì 22 di marzo 1521 venirono in mezzo di quegli uomini secondo ne avevano promesso in due barchi con cocchi naranzi dolci, uno vaso di vino di palma e uno gallo per dimostrare che in queste parti erano galline. Si mostrarono molto allegri verso di noi. Comprassimo tutte quelle cose, il suo signor era vecchio e dipinto, portava due schione d'oro e le orecchie, gli altri molte maniglie d'oro agli brazzi con fazzoli intorno al capo. Stessimo quivi otto giorni, negli quali il nostro capitano andava ogni di in terra a visitare gli infirmi e ogni mattina gli dava con le sue mani acqua del cocco che molto li confortava. De dietro de questa isola stanno uomini che hanno tanto grandi li picchetti delle orecchie, che portano gli bracci ficcati in loro. Questi popolo sono cafri, cioè gentili, vanno nudi con tele de scorza d'arbore intorno alle sue vergogne. Se non alcuni principali con tele de bambaso lavorate negli capi con sete agucchia. Sono olivastri, grassi, depinti e se ongeno con olio de cocco e de giongioli per lo sole e per il vento. Hanno li capelli negrissimi fino alla cinta e hanno daghe, coltelli, lance de oro, targoni, fiocine, arponi e reti per pescare come rezzali. Le sue barche sono come le nostre. Nell'Uni Santo a 25 de marzo, giorno della nostra donna, passato mezzodì, essendo di ora in ora per levarsi, andai a bordo della nave per pescare e mettendo i piedi sopra un'antenna per discendere nella mesa di guarnigione me li zegarono i piedi perché erano piovesto e così cascai nel mare che ne uno me vide. Essendo quasi sommerso, me venne nella mano sinistra la scotta della vela maggiore, che era ascosa nell'acqua, me tenni forte e cominciai a gridare, tanto che fui aiutato con l'obattello. Non credo già che per i miei meriti, ma per la misericordia di quella fonte di pietà fossi aiutato. Nel medesimo giorno pigliassimo, tra il ponente e Garbin, infraquattro isole, Cenalo, Yunungam, Ibusson e Abarienne. Grazie a tutti.